Ed eccoci qua! Anche questa settimana ci ritroviamo a parlare del nuovo episodio di One Piece! Com'è stato questa volta? Parliamone subito! Lo commenti anche tu! Salve a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale per il video commento all'episodio 1018 di One Piece! Prima di cominciare iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video! Siamo quasi a 62.000 iscritti ragazzi! Forza! Continuiamo così e soprattutto grazie mille per tutti coloro che decideranno di iscriversi! Il titolo di questo episodio è La risata di Kaido, gli imperatori del mare contro la nuova generazione! E come abbiamo visto adatta per interi il capitolo 1003 del manga che si intitola invece Una notte sulla scacchiera! Anche questo episodio ci porta in scena l'epico scontro della generazione peggiore con i due imperatori Kaido e Big Mom! A differenza però degli episodi precedenti, questa a livello di animazione sembra essere meno spettacolare! Gli altri ci hanno dato un'impressione migliore, ecco! Nonostante l'episodio riesca a trasporre l'intero capitolo del manga, il ritmo sembra essere più lento del solito! L'episodio perde tempo, sia all'inizio quando Rufy continua a colpire Kaido con il Gatling, che alla fine quando assistiamo alla scena dedicata alla CP0! Molto lenta, diluita, tantissimo! Sì ragazzi, sono scene lente! Volutamente lente, per fare in modo di riuscire ad adattare l'intero capitolo senza sforare con l'inserimento di qualche scena del prossimo! L'episodio si concentra molto sugli attacchi di Kaido, vediamo infatti il drago che è stato realizzato in 3D, non è bellissimo da vedere a dire il vero, però dà alla scena una certa importanza! Vediamo infatti questo drago che è maestoso, che è imponente, che si erge sugli altri! L'episodio dà risalto anche all'attacco di Zoro verso Kaido, vediamo un'aura che avvolge lo spadaccino, Kaido comprende che possiede la spada di Oden e una bella scena epica viene dedicata a Zoro, lo spadaccino dei Mugiwara! Nonostante questo però, non a tutti la realizzazione di questa scena è piaciuta! Su Twitter c'è un post di Henry Turlow, uno degli animatori dell'anime, che ha scritto queste parole Ho partecipato all'episodio 1018 di One Piece con una piccola immagine originale, alla fine ho disegnato Zoro, grazie! E continua dicendo Ho realizzato alcune animazioni chiave per l'episodio 1018 di One Piece, negli ultimi mesi sono stato impegnato con il 1017, quindi con il 1018 ho fatto qualcosa, ma nulla di grandioso! Nonostante questo però, sono contento di essere finalmente riuscita a disegnare Zoro! Questo post ragazzi però non ha ricevuto il più piacevole dei commenti, un utente infatti gli ha scritto Quindi sei tu quello che disegna quell'aura di merda! A questo messaggio Henry Turlow risponde di sì, che era lui, che lo farà ancora e ancora e ancora, letteralmente per anni! Continua dicendo che solo perché sa che non gli piace, la prossima volta la renderà un'aura ancora più grande Aggiungerà fiamme blu e rosse tutte in una volta, anche più strati insieme che si mischiano E dice che non vede l'ora di farlo Henry Turlow scrive che dopo questo commento che ha ricevuto, quello che farà è provare a creare l'aura più grande mai vista negli anime Come i capelli di Gon di Hunter x Hunter Poco per maloso il tipo, no no, ma si è seccato poco con quel commento ragazzi, pochissimo Ma non finisce qui perché continua dicendo che aggiungerà anche una scena addirittura in cui Ener sulla luna Guarda in basso dicendo wow, quell'aura si sta avvicinando a me! Henry Turlow parla anche del motivo perché vengono inserite queste aure colorate Dice che anche se non è a conoscenza dei dettagli esatti delle intenzioni dei registi È abbastanza certo che l'aura gialla contrasta con l'aura oscura della Elma alla fine della sequenza Perché in sostanza è per dare quell'impatto, quella sensazione che la luce riesce a cambiare l'oscurità Turlow oltretutto risponde ai fan che si lamentano del ritmo dell'episodio Dice che l'episodio ha avuto un ritmo incredibile e infatti ha coperto un intero capitolo in un episodio E può dire per certo che questa non è la norma per la serie anime di One Piece Per cui Turlow afferma che se alcuni fan hanno un problema con il ritmo della storia Allora significa che non gli piace il ritmo del capitolo originale Ma questo Turlow che comunque è... ragazzi manda queste frecciatine Un po' permaloso, sì è permaloso Turlow parla anche di serie più vecchie dicendo che si chiede allora Cosa pensano le persone che si lamentano ogni settimana degli anime nuovi delle serie più vecchie Quelle con cui lui è cresciuto Come Dragon Ball Z, Yu Yu Hakusho, Okuto no Ken, Berserk, Kershin eccetera eccetera Dice che raramente avevano un'animazione folle o fluida Ma dice che hanno personaggi e storie fantastici e quindi sono perfette così come sono Turlow dice che gli episodi 1016 e 1018 hanno avuto l'animazione più folle che si poteva sperare Afferma che i disegni sono bellissimi e con un buon ritmo E aggiunge che avrebbero potuto adattare solo un paio di pagine per ogni episodio senza che accadesse quasi nulla Invece sono stati realizzati degli episodi che mostrano l'intero round 1 del tetto di Onigashima E tutto questo in soli 4 episodi Come abbiamo visto ragazzi questo Turlow è un tipo a cui non piace starsene zitto E quindi lo seguiremo ragazzi vedremo i suoi tweet vediamo che cosa da dire con i prossimi episodi Risponde alle provocazioni con altre provocazioni e si ragazzi è permaloso Secondo lui il 1018 è bello come gli episodi precedenti Non è vero secondo lui che il ritmo dell'episodio sia più lento Vabbè non accetta critiche in generale diciamolo pure In realtà ha ragione quando dice che l'adattamento di un intero capitolo per l'episodio di solito non è la norma Ci sono episodi che come sappiamo adattano solo alcune pagine del capitolo Però il ritmo dell'episodio secondo noi non è perfetto Anche se adatto un intero capitolo c'è da considerare che si tratta di un capitolo di scontri Per cui diluire in 20 minuti un intero capitolo in cui si combatte è naturale Che poi alla fine il risultato ci dà un episodio lento Perché quegli scontri li puoi fare anche in 10 minuti Invece per diluirlo in 20 minuti ragazzi l'episodio è normale che risulta lento Anche se adatta l'intero capitolo Per questo motivo il ritmo dell'anime rispetto a ciò che leggiamo nel manga appare diverso Nel manga il ritmo è più veloce leggendolo su carta 20 minuti di anime è più lento Per cui non è vero che se non si apprezzi il ritmo dell'anime vuol dire che non piace il ritmo di quel capitolo Attenzione a cosa diciamo turlo Sono due prodotti ragazzi con ritmi completamente diversi Anche la scena della CP0 ce l'aspettavamo più veloce Ci aspettavamo un montaggio più veloce in modo tale da aggasarci Da farci venire l'ansia E invece è molto ma molto lenta L'anime se la prende davvero comoda Nonostante tutto questo però rimane comunque un ottimo episodio Magari non leggendario ed epico come i precedenti Ma è comunque un bel episodio che riesce a rendere l'idea dell'importanza e del terrore di uno scontro con gli imperatori Kaido e Big Mom Adesso manca poco alla scoperta della forma ibrida di Kaido all'interno dell'anime Finalmente avremo il piacere di vedere e di scoprire l'animazione di questa forma di Kaido Che ancora nell'anime è completamente inedita E con questo è tutto ragazzi Voi cosa ne pensate dell'episodio? Fateci sapere la vostra attraverso i commenti E prima di lasciarvi vi ricordiamo che dal 1 al 5 giugno saremo ad Etna Comics a Catania Vi aspettiamo all'Etna Comics e saremo presenti in fiera tutti i 5 giorni A breve ragazzi vi comunicheremo quali saranno le nostre attività del primo giorno Per cui seguiteci e speriamo davvero di incontrarci ragazzi per scambiare 4 chiacchiere con voi 1 a 5 giugno Etna Comics a Catania Se questo video vi è piaciuto mettete un bel like e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video Alla prossima Alla prossima ragazzi Alla prossima Alla prossima